Sabato 7 dicembre accensione delle luminarie artistiche e per i più piccoli Babbo Natale arriverà dal cielo in Mongolfiera. Un cartellone di eventi plurale realizzato grazie anche al protagonismo delle organizzazioni sociali del territorio, dichiara il sindaco Franco Alfieri. Tutto il Natale che vuoi, questo è il titolo del programma di eventi e manifestazioni allestito dall'amministrazione comunale di Capaccio Pestum per le festività natalizie ormai alle porte, uno sforzo plurale che vede protagonista anche quel fitto reticolo di organizzazioni sociali, associazioni culturali, comunità parrocchiali, gruppi giovanili che innerva e arricchisce il territorio comunale. I momenti più suggestivi del primo weekend di programmazione sono quelli in calendario per il pomeriggio di sabato 7 dicembre. Alle ore 17 in via Caduti di Nasseria a Capaccio Scalo i bambini attenderanno l'arrivo di Babbo Natale che giungerà dal cielo a bordo di una mongolfiera, grazie alla collaborazione con il Festival Internazionale delle Mongolfiere, evento internazionale che si tiene da oltre un decennio a Capaccio Pestum. Programmata in contemporanea anche l'accensione delle luminari artistiche, momento che scandirà idealmente l'inizio delle feste natalizie. Abbiamo allestito un programma natalizio ricco di bei momenti e il commento del sindaco di Capaccio Pestum, Franco Alfieri. Soprattutto abbiamo lavorato in una dimensione plurale insieme ai gruppi, associazioni, parrocchie, volontari, in servizio civile, forum dei giovani. È il segno di una comunità viva che ha idee, progetti e voglia di partecipare al processo di cambiamento che si è innescato da qualche mese. Come era giusto che fosse, attenzione particolare è stata dedicata alla programmazione degli eventi destinati ai bambini. Una brochure speciale con tutti gli appuntamenti per i più piccoli e in corso di distribuzione fra gli allievi delle scuole del territorio comunale. Il programma completo delle manifestazioni natalizie è consultabile sul sito www.comune.capaccio.sa.it.